Allora, mister, obiettivo raggiunto, tre punti ci volevano e tre punti sono arrivati per entrare nella pool playoff, anche se neanche questa sera si è vista la faccia migliore della tua squadra. Quella la vedremo sabato, fra due sabati, diciamo così. Sì, non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma non era facile, giocare contro il Chelona non è facile per tanti motivi, perché sono ragazzi che corrono, fanno un tipo di difesa particolare, l'approccio alla gara, abbiamo preparato la gara in un certo modo, in corso d'opera ho dovuto cambiarla e un po' si è vista alla fine del primo tempo. Sono contento perché poi hanno giocato tutti i ragazzi giovani che hanno trovato meno spazio durante la stagione, hanno giocato forse meglio di chi stava in campo nei primi minuti e questo è un buon segnale che hanno dato a me e alla società. Per questo sono soddisfatto. Certo, ora tra 15 giorni si inizia con la pool playoff. Con quali ambizioni, in qualche modo, con quali obiettivi vi presentate a questa parte più importante della post-season? Ma giocare una partita per volta, quello è il nostro scopo, è sempre stato il nostro obiettivo. Giocheremo qui la prima in casa con il Fasano e proviamo a giocarcela, a vincere, a prendere qualche punto, sarà difficile. Il nostro obiettivo è quello, giocare ogni partita con l'obiettivo di crescere ogni partita, cercare di prendere qualche punto ogni partita e poi, come abbiamo sempre detto, teneremo le somme a fine andata della pool, alla fine della pool e poi vedremo che cosa succederà. Tutto sta nel crescere. Più si gioca contro queste squadre, più si cresce e noi vogliamo fare questo, vogliamo, anche per questi ragazzi che oggi si sono ben comportati. Grazie.